Monsignor Dell'Olio, con Libera le disuguaglianze affrontate ogni giorno, soprattutto per quanto riguarda i problemi causati dalla criminalità, quanto è ancora stato compreso che la criminalità provoca disuguaglianze anche a livello culturale? In questi anni è aumentata sicuramente la consapevolezza, la sensibilità nel tema della legalità e sull'antimafia, però è altrettanto vero che la mafiosità, intesa come una forma di mafia non più legata semplicemente ai clan tradizionali, d'Indrangheta, Camorra e Cosa Nostra, purtroppo è diffusa e quindi oggi abbiamo bisogno di rileggere in qualche modo una mafiosità diffusa che crea disuguaglianze attraverso soprattutto il metodo della corruzione. In questo senso penso che di fronte ad un mondo inedito che ci viene davanti, noi dobbiamo anche essere in grado di preparare delle risposte inedite e a me sembra che la società civile in maniera particolare, libera è un contributo, è un'esperienza, è sicuramente l'intuizione di mettere insieme anche sensibilità, competenze diverse, questo vada altrettanto diffuso quanto appunto per far fronte alla cultura appunto di questa mafiosità diffusa. Quindi quali saranno le basi di questa nuova uguaglianza a cui bisogna tendere? Innanzitutto dovremmo proprio ancorarci molto di più al punto di riferimento centrale che abbiamo che è quello della Costituzione. Troppo spesso la mafia, la mafiosità di cui dicevo, concedono come favore ciò che invece lo Stato dovrebbe garantire come diritto. Abbiamo una Costituzione fondata sul lavoro, una Repubblica fondata sul lavoro, penso che non si possa prescindere da questo. Allora come dire che istituzioni, società civile, tutti gli organi importanti devono concentrarsi proprio sulle politiche di occupazione. È il deterrente migliore e più efficace appunto per far fronte a quel tipo di cultura nefasta di cui parlavo prima. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!